Che bello! Cioè, non è una figata che possiamo andare in giro da soli? Capirai cosa ci potrà mai capitare qui a Castelcorvo. Di sicuro non navigare con una linea decente. Quando lo finirei con questa storia? Quando avrò finito di scaricare il mio nuovo punteclic. Che noi, sei proprio fissato con questi punteclic, eh? Guarda che servono. Servono ad allenare il pensiero logico. E chi è che ha vinto le olimpiadi di matematica? Chi? Non sento chi? Dimmi il nome, Riccardo! Cervellone, siamo in un posto nuovo. Sei almeno un po' curioso. Sicuramente Castelcorvo non è più interessante del mio nuovo gioco.